Eccoci qua, buonasera e bentrovati, un'altra puntata in diretta di In Cammino. Siamo nel 2024, l'anno che Papa Francesco ha voluto dedicare alla preghiera in preparazione all'anno santo, l'anno prossimo, il giubileo del 2025. Parleremo di questo questa sera e di come le diocesi si stanno organizzando proprio per accogliere questa volontà di dedicare quest'anno alla preghiera. Proprio in Italia andremo nell'Arcidiocesi di Cosenza Bisignano. Dopo la sigla. Ed eccoci qua, diamo subito il benvenuto al nostro ospite, bentrovato, bentornato a TV2000, Don Enzo Gabrielli. Buonasera, buonasera. Grazie Don Enzo per esservi con noi, vicario episcopale per la Catechesi, la Cultura e le Comunicazioni Sociali dell'Arcidiocesi di Cosenza Bisignano perché proprio la diocesi Calabra ha raccolto questo invito del Papa, a prepararsi nel modo giusto al grande giubileo del 2025, quest'anno della preghiera. Voi l'avete, facciamo una piccola anticipazione, 17 santuari in rete per tornare a scoprire la funzione, diciamo così, della preghiera. Sì, abbiamo accolto intanto una sollecitazione bella che è venuta sia dal di Castero che dal Santo Padre, fare leva sulla fantasia pastorale. E quando abbiamo proposto al nuovo vescovo Giovanni l'idea di preparare l'anno della preghiera in cattedrale nei luoghi significativi, ha voluto una preparazione e una celebrazione e i momenti della preghiera vissuti in maniera diffusa nella diocesi, non solo nella cattedrale, ma in 17 punti che sono come i 17 fari nel nostro territorio. Bellissimo, messi insieme una corona. Una corona mariana perché in fondo i nostri santuari sono quasi tutti dedicati alla Madonna, ma allo stesso tempo raccolgono le piccole realtà locali e anche i grandi santuari che raccolgono tanti devoti come quello di San Francesco di Paola. Don Enzo, hai evocato nelle tue parole anche il di Castero, chiaramente stiamo parlando del di Castero per l'evangelizzazione, abbiamo con noi proprio del di Castero Marco Lucente. Ben trovato Marco, buonasera, collegato da Roma, grazie per essere con noi. Salve, buonasera, grazie per l'invito. Ufficiale del di Castero per l'evangelizzazione, si occupa della pastorale per i santuari e la pietà popolare, e quindi ecco il nostro racconto come si innesca in un percorso che ci porta a tornare a quell'invito del Santo Padre a dedicare quest'anno proprio alla preparazione spirituale, ritornare al vero senso della preghiera, al silenzio, del raccoglimento, magari riscoprendo anche dei luoghi che ci aiutano a entrare nel clima della preghiera. Già il fatto che tu nel di Castero ti occupi della pastorale dei santuari, questo ci indica l'attenzione che Papa Francesco ha per questi luoghi che collegano cielo e terra? Assolutamente, sappiamo che il Papa Francesco ha molto a cuore i santuari, non li vede solamente come dei luoghi da raggiungere per chiedere una grazia, ma anzi questo è il motivo per il quale col moto proprio Santuario Menecletia affidò già all'allora Pontificio Consiglio per la promozione dell'evangelizzazione la cura pastorale dei santuari. Il Papa ha sempre visto i santuari come un faro per evangelizzare, per raggiungere non soltanto i fedeli ma anche i turisti e per aiutarli diciamo a diventare pellegrini nei santuari. Sono dei luoghi pieni di bellezza, non solo di bellezza naturale, ma anche di bellezza artistica. La via Pulcritudis è una via di evangelizzazione che anche il di Castero spesso promuove, che possa aiutare i turisti a diventare pellegrini. È bello che diventa Marco il santuario un luogo anche di primo annuncio, se pensiamo anche al giubileo, quello che accadrà, i tanti turisti che poi appunto possono diventare anche pellegrini, magari incontrano un messaggio, un annuncio per la prima volta, magari facendo una gita, facendo un cammino, semplicemente avendo visto su una guida un luogo storico. E questo è importante, è un'occasione che la Chiesa non deve perdere. Esattamente. I santuari sono un luogo di evangelizzazione e se prendiamo anche questi piccoli appunti che il di Castero ha preparato per questo anno della preghiera... Abbiamo anche un'immagine in grafica con tutti gli appunti. Prego. Sì, nell'introduzione scritta dal Santo Padre, egli proprio dice che auspico che in tutti i santuari del mondo, luoghi privilegiati per la preghiera, si incrementino le iniziative affinché ogni pellegrino possa trovare un'oasi di serenità e ripartire con il cuore colmo di consolazione. Quindi proprio i santuari hanno un'attenzione molto particolare per questo giubileo. Tornando alla diocesi di Cosenza Bisignano, Don Enzo, tornare ai santuari significa anche un po' tornare alle origini, tante volte, di quei centri abitati, di quelle comunità che sono state fondate magari in passato proprio grazie alla presenza primordiale di quel luogo di culto. Sì, noi infatti abbiamo scelto non solo i grandi santuari che sono grandi riferimenti per i pellegrini, per i turisti e per quanti vogliono incontrare anche attraverso una pastorale occasionale di primo annuncio, vogliono incontrare il Signore. Tante volte questi santuari suppliscono a dei ritardi, a delle fatiche, quindi offrono la confessione, offrono momenti di preghiera organizzati. Ma abbiamo scelto anche i piccoli santuari locali, quelli di Forania, dove ci si può ritrovare nell'intimità, nella storia locale, nell'esperienza di una comunità che si ritrova attorno ad un simulacro della Vergine che diventa per gli emigrati la scusa per il ritorno e diventa per le parrocchie viciniori un'occasione per vivere un momento di intimità. Anche la preghiera che abbiamo proposto, anche noi prepariamo dei piccoli sussidi ma che non si vogliono sovrapporre all'esperienza locale, vuole lasciare alla libertà, alla fantasia delle comunità che si ritrovano, la possibilità di vivere un momento di preghiera ben organizzata, intima, prolungata, non disturbata. È interessante Marco Lucente, tu ti occupi anche della pietà popolare che spesso e sovente è legata alla storia dei santuari, ogni santuario custodisce un messaggio, custodisce una storia, anche una tradizione che serve a celebrare quella storia. Anche il cammino sinodale ci invita in questi anni proprio a tornare al vero senso del culto, tornare al messaggio del santo, cercando di liberare anche le forme di pietà popolare da quel folklore che spesso, passatemi il termine, inquina il messaggio centrale di quella manifestazione culturale. Sì, diciamo che appunto anche qui sempre il santo padre, sicuramente per la sua storia, per la sua origine dalla Sud America, dall'Argentina, ha molto a cuore la pietà popolare. Lui l'ha vista come un anticorpo, come qualcosa che è fondamentale per la chieta, per andare avanti. Questa semplice, che spesso viene descritta come semplice, pietà popolare, invece è proprio quella base, quel fondamento, quella pietra sulla quale possiamo costruire i nostri santuari appunto. Molti santuari nascono grazie alla pietà popolare e si mantengono e si diffondono il culto grazie alla pietà popolare. Un esempio pratico, recentemente Di Castero ha elevato il santuario ad Antipollo nelle Filippine a santuario internazionale. Il santuario di Antipollo è dedicato alla nostra signora del buon viaggio e della pace, molto venerato nelle Filippine. Ebbene, perché santuario internazionale, un santuario che si trova nelle Filippine? Ecco, perché la pietà popolare ha portato l'immagine di questa Vergine in tutto il mondo. I Filippini emigrati in tutto il mondo hanno portato con sé nel loro cuore, nelle loro case, nelle loro chiese l'immagine di questa Vergine sacra. Ebbene, questa è la forza verità popolare. Pensiamo solo a quanti santuari e chiese dedicate alla Madonna di Pompei in giro per il mondo, appunto con i migranti italiani che hanno poi fatto conoscere, no Don Enzo, quel carisma anche alle nuove popolazioni che accoglievano i migranti. Permettimi di aggiungere, pensa a quanti santuari e quante chiese dedicate a Francesco di Paola che gli emigrati calabresi hanno portato con loro in Canada, negli Stati Uniti, nell'America Latina. Quindi la pietà popolare come leva, come primo spazio di annuncio da dove ripartire per un incontro con il Signore. Stiamo proprio vedendo le immagini del santuario di San Francesco di Paola. In Calabria, quando si parla di San Francesco, è ovvio che sia San Francesco di Paola. Sì, ovvio, ovvio. No, allora, ci fermiamo solo per qualche istante, torniamo dopo la pubblicità e vi portiamo poi con le immagini anche a Cosenza, santuario cittadino in questo caso del Santissimo Crucifisso per capire quanto è importante un luogo di silenzio e di preghiera al centro di una città, dopo la pubblicità. Bentornati con Don Enzo Gabrielli dall'Arcidiocesi di Cosenza Bisignano e con Marco Lucente del Dicastero per l'Evangelizzazione stiamo cercando di capire come le diocesi, anche le diocesi in Italia, si stanno organizzando in questo anno della preghiera che il Santo Padre ha voluto per prepararsi al meglio al grande evento dell'Anno Santo, il Giubileo del 2025. Don Enzo, dicevamo, 17 santuari che avete messo in rete nella vostra diocesi per accompagnare i fedeli giustamente all'Anno Santo del 2025. Tecnicamente come funzionerà? Noi proponiamo, grazie all'ufficio liturgico, a Don Luca che sta preparando dei sussidi, proponiamo un piccolo sussidio di animazione che inviamo ai 17 santuari, alle 17 chiese della nostra diocesi e qui ogni rettore, ogni parroco, il primo giovedì organizza quasi in contemporanea e una preghiera corale ma diffusa nel territorio, propone alle realtà viciniore, alle parrocchie vicine, questo momento di preghiera che sta seguendo un calendario, un piccolo percorso che è coordinato con l'Anno Liturgico, ovviamente, perché vogliamo tenere conto del cammino che la Chiesa fa nell'ambito anche della liturgia. Nel Mese Mariano ovviamente si propone un rosario, nel periodo di Quaresima abbiamo proposto una via Crucis o adesso una via Lucis, poi negli altri giovedì del mese i santuari si organizzano coinvolgendo parrocchia dopo parrocchia o realtà ecclesiale e chiedendo loro di organizzare una veglia, un momento di preghiera, un momento di animazione. Nella seconda parte dell'anno seguiremo quello che farà il Santo Padre con la scuola di preghiera e proporremo un percorso per ricominciare a pregare che abbiamo proprio titolato come i sussidi del di Castero Signore, insegnaci a pregare. Non abbiamo bisogno di formule, ma abbiamo bisogno di riprendere uno stile di preghiera, una modalità di cammino, di intimità con Lui. Marco Lucetti, ti chiedo un commento su questa fantasia pastorale, questa creatività che chiaramente sullo sprone di Papa Francesco porta poi nei territori, nelle chiese locali, tanta energia per arrivare pronti al 2025. Non c'è che lodare perché l'iniziativa, l'intenzione era proprio questa, il di Castero, il Santo Padre, tramite il di Castero, non aveva nessuna intenzione di presentare con il sussidio, insegnaci a pregare, già una scaletta che tutti debbano seguire. Anzi, era proprio per dare diversi spunti, ed è bellissimo sentire che così è successo. E quindi sono veramente contento di sentire questo, che i santuari possono fare una catena e pensare proprio alla preghiera. Le scuole di preghiera adesso in Italia molti santuari stanno promuovendo dalla Sicilia alla Lombardia come esercizi spirituali. Ricordiamo che il Santo Padre al secondo incontro internazionale che ha fatto per i rettori e gli operatori dei santuari proprio prevedeva una scaletta di preghiera nei santuari come il rosario con l'adorazione e la rinconciliazione. Sono questi i metodi, diciamo, i punti forti dei santuari e sono contento di sentire che così sta avvenendo. E allora, noi andiamo in un santuario a Cosenza nel centro della città torniamo a scoprire la storia e anche la missione e il carisma del santuario del Santissimo Crucifisso della Riforma. Vediamo. Pace e bene a tutti voi carissimi fratelli e sorelle. Ci troviamo nel convento del Santissimo Crucifisso della Riforma a Cosenza nella diocesi di Cosenza Bisignano in Calabria. Ci stiamo preparando per vivere degnamente il grande giubileo che inizierà la notte del Natale di questo anno e in comunione con il Santo Padre il Papa Francesco ci stiamo preparando attraverso questo cammino di preghiera di esperienza viva nell'ascolto della parola del Signore e soprattutto impegnandoci ogni giorno nell'ascolto attento del Signore che vuole parlare ai nostri cuori e come il Papa stesso ci ha invitato a vivere questo anno della preghiera vogliamo veramente prendere sul serio l'impegno di essere cristiani che camminano verso la luce verso la gioia verso la speranza Stiamo facendo questo percorso molto partecipato dalla gente proprio attorno al tema della preghiera e gli abbiamo dato un taglio particolare ci sono varie forme di preghiera molti modi di pregare però noi abbiamo cercato di mettere l'accento sulla preghiera personale sul colloquio intimo tra il credente e Dio e ci siamo anche posti questa domanda da dove viene questa necessità di pregare personalmente in questi giorni poi abbiamo anche vissuto le 40 ore che sono una forma di preghiera tradizionalissima e che consistono proprio nell'adorazione perpetua del Santissimo Sacramento esposto in modo solenne allo sguardo e alla contemplazione di tutti i fedeli è stata nella volontà del nostro Vescovo quella di mettere insieme tutti i santuari della Diocesi per preparare il Giubileo del 2025 vivendo proprio all'interno dei santuari l'anno della preghiera il santuario in sé rappresenta proprio uno scrigno di preghiera e anche di speranza per le comunità cristiane nella nostra Diocesi tanti sono i santuari ci troviamo in un santuario che è nel cuore della città alcuni santuari come questo ad esempio si caratterizzano anche per essere dei grandi confessionali per le Diocesi il richiamo alla croce è inevitabilmente anche un richiamo alla conversione è proprio alla luce della Pasqua che riusciamo a cogliere il messaggio di speranza che viene dalla croce di Cristo Don Enzo Gabriele un paio di spunti da questo servizio il primo è la preghiera personale importante per essere comunità sembra quasi un controsenso partire dal proprio cammino personale per essere poi più comunità certo più ci si avvicina al Signore più ci si avvicina ai fratelli era l'antica immagine che i padri della Chiesa davano della ruota siamo ciascuno un raggio dell'unica ruota e se ci avviciniamo al centro al mozzo della ruota che è Cristo naturalmente ci avviciniamo ai fratelli ed è bello che questo santuario che abbiamo visto presentato nel servizio proprio dall'esperienza personale propone accanto al santuario una grande opera di carità perché il cammino si fa aprendosi anche al fratello che incontri sulla strada anche quello bastonato e non puoi distogliere lo sguardo mentre vai a rendere culto altrimenti c'è una frattura tra fede professata e vita vissuta cioè come se fossero due polmoni due cuori due cuori per una stessa persona anzi un cuore indiviso per Dio e per i fratelli e poi credo che proporre i santuari come faro di speranza in un momento in cui nel mondo sembra che tutto vada verso la distruzione è un grande annuncio di fede noi non andiamo verso la morte non andiamo verso la fine ma andiamo verso la luce l'altro aspetto che emergeva dal servizio che sono segnato che i santuari sono come dei grandi confessionali delle diocesi un luogo della misericordia sono luoghi dove ancora sta diminuendo la presenza dei sacerdoti nelle chiese siamo presi da tanti impegni pastorali ancora questi luoghi benedetti offrono la possibilità di bussare quando hai bisogno tante volte si dice non trovo il parroco non è per cattiva volontà perché siamo di meno nei santuari ancora le comunità religiose riescono ad offrire un servizio continuo e anche riprendere la confessione in maniera sistematica in questi luoghi è un grande contributo al cammino di evangelizzazione Marco Lucente devo che in qualche modo eri d'accordo sul fatto che il santuario diventa un grande luogo di misericordia luogo di silenzio luogo di formazione anche spirituale luogo di primo annuncio però qui è importante poi investire probabilmente in chi accoglie nei santuari dicevamo se è fondamentale anche come primo annuncio è importante che chi accoglie il pellegrino il turista che poi magari diventa pellegrino credo che sia fondamentale assolutamente l'accoglienza è il primo sguardo che il turista il pellegrino riceve quando va a un santuario quindi spesso ci auguriamo che sia ad accoglierle magari ovviamente non il rettore ma qualche appartenente alla comunità religiosa o che le guide non siano solo guide che accompagnino il turista attraverso la bellezza del luogo santo ma che siano anche che approfittino della bellezza per fare catechesi quante volte la bellezza è un primo annuncio ebbene le chiese sono piene di opere d'arte stupende che hanno proprio questa intenzione e nascono con questa intenzione che è l'annuncio ma spesso noi ci focalizziamo soltanto sull'accoglienza ebbene non dimentichiamo anche quello che è il saluto finale perché lì comincia il velo pellegrino ad avere difficoltà quando rientra nella quotidianità lì ha bisogno di essere accompagnato seriamente ebbene il saluto dal santuario la benedizione di congelo come si chiama è una parte integrante e fondamentale anche per accogliere il pellegrino e allora grazie per il vostro impegno a livello universale Marco Lucente di Castello per l'Evangelizzazione a livello particolare nell'Arcidiocesi di Cosenza Bisignano grazie a Donenzo Gabrielli e buon cammino in questo viaggio attraverso i santuari e il messaggio dei santuari che ci riporta sempre attuale nella preparazione verso il giubileo io ho un'altra bella notizia a darvi perché questa sera ritorna Di Bella sul 28 ore 20 e 50 con Antonio Di Bella vi segnalo tra gli ospiti Paolo Gentiloni commissario europeo per gli affari economici e monetari quindi 20 e 50 Di Bella sul 28 noi torniamo domani sera invece alle 19 e 30 con un'altra puntata di In Cammino a presto e grazie ancora